Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Sorin e all'appuntamento settimanale con il Manga News 24. Anche questo lunedì, come sempre, andremo a ripercorrere alcune tra le novità più interessanti che ci sono state nel corso degli ultimi giorni e subito a seguire invece andremo a scoprire tutte le novità che troveremo in fumetteria nel corso dei prossimi giorni. Come sempre vi chiedo soltanto di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche sui social che trovate qua sotto in descrizione. Ma adesso non perdiamo altro tempo perché c'è molto di cui parlare, andiamo con una brevissima sigla e iniziamo subito questo nuovo video. Il primo argomento di cui dobbiamo parlare è Goen, infatti la casa editrice è stata ospite del canale Twitch di Kirio1984 dove sono stati affrontati vari temi. Il più importante, o comunque il più atteso sicuramente, era quello riguardante Billy Butt. Hanno dichiarato di non essere loro al 100% a portare nuovamente Billy Butt in Italia. Diciamo che hanno, tra virgolette, perso i diritti e stiamo attendendo l'annuncio di qualche altra casa editrice che vada ad acquisire i diritti di quest'opera e di capire se manterrà la stessa edizione, ma comunque con il loro logo, o se cambierà completamente edizione. Personalmente spero in J-pop per il semplice fatto che è l'unica casa editrice che mi viene in mente che possa mantenere lo stesso formato. A me manca un volume solo, quindi mi scoccierebbe un pochettino averlo di un altro formato. Già mi immagino se lo prende Panini fare qualche mega edizione, due volumi in uno, quindi andrebbe un pochettino a rovinarmi tutti i piani che ho in mente. Comunque se vi va fatemi sapere invece secondo voi chi la prende o comunque chi sperate che vada ad acquisire i diritti di questo titolo. Dopodiché abbiamo iniziato a sentire parlare di annunci e quindi trasferiamoci alla schermata degli annunci e andiamo a vedere che cosa è stato annunciato da parte di Goen per i mesi futuri. La maggior parte dovrebbero iniziare, dovrebbero debuttare in Italia nel corso della primavera 2022. Il primo titolo che andiamo a vedere è Colpo Mortale, una serie di sette volumi serie completa, scritta da Yoshio Nagai e disegnata da Jiro Matsumoto. Un contadino è obbligato a lasciare le sue terre per lo scoppio di guerre e rivolte che si stanno verificando nei dintorni. Così decide di diventare un samurai e si troverà ad affrontare le battaglie che hanno segnato l'ultimo anno dell'epoca Edo. Poi il secondo titolo annunciato invece è Swan il Cigno, 12 volumi in questo caso, sempre la serie completa. Scritta e disegnata in questo caso da Kyoko Aroyoshi. Si tratta di uno shoujo drammatico che vede come protagonista Masumi, una sedicenne con grinta da vendere. Il suo sogno nel cassetto è quello di diventare una grande ballerina. Si metterà in mostra durante uno spettacolo in ambito juniores ed entrerà a far parte della scuola diretta da un grandissimo ballerino, nonché il suo idolo indiscusso da sempre. È proprio all'interno di questa scuola che nasceranno le prime amicizie ed i primi amori. Proseguiamo e questo credo che sia il titolo che era il più atteso, comunque quello che i lettori hanno accolto con maggior interesse, ovvero Girls Last Tour, che arriverà in Italia con il titolo italianizzato Il loro ultimo viaggio. Sei volumi serie completa di Tsukumizu. Si tratta di un seinen slice of life di fantascienza, ma con tratti anche drammatici, che si svolge all'interno di una civiltà ormai morta, ma dove Cito e Yuri, le nostre due protagoniste, sono più che mai vive. Le due ragazze saliranno in sella ad una moto e partiranno verso una straordinaria avventura, con i soli sentimenti che condividono e le esperienze che faranno, ma non si perderanno mai d'animo, ma continueranno a cercare le cose più semplici della vita normale, come un distributore dove fare rifornimento, un pasto caldo da mangiare e soprattutto nuovi luoghi da scoprire. Fate conto che quest'opera ha vinto nel 2019 il Seiyun Award nella categoria Best Comic. Ultimo titolo da andare a vedere è anche l'unico volume unico che ci viene presentato da Goen, ed è Come sopravvivere nell'era Sengoku. In questo caso, se non sbaglio, dovrebbe già essere in uscita per il mese di febbraio. L'autore è Kyochikuto e si tratta di una storia di un gruppo di dei annoiati che faranno teletrasportare una ragazza nell'era Sengoku. Non ha superpoteri, nulla di fuori dall'ordinario, ma nonostante ciò dovrà fare di tutto per riuscire a sopravvivere ad un'epoca che è completamente differente rispetto a tutto ciò a cui è stata abituata fino a quel momento. E questi ragazzi erano i titoli che sono stati annunciati da Goen. Ora invece mandiamo via la nostra schermata per i titoli, torniamo a parlare tra di noi e andiamo avanti. Infatti è stata annunciata finalmente anche la data per quanto riguarda l'uscita di One Piece 100. Attenzione, dovrebbe uscire tra il 22 e il 26 di aprile 2022 in concomitanza con il Comic-Con di Napoli. La cosa che ci tengo a precisare è che attualmente, e voglio sottolinearla cento volte perché me ne avete già chieste in tantissimi, non ce la faccio quasi più, è che non sappiamo se ci sarà una variant esclusiva per il Comic-Con. Non si sa, è ancora molto presto perché venga rilasciata una notizia del genere. bisogna avere pazienza, aspettare e poi scopriremo che cosa succederà. Sicuramente, secondo me, finirà come FreeRen per fare un esempio. Quindi ci sarà l'edizione regular, un'edizione variant che sarà distribuita a tutte le fumetterie e un'edizione variant esclusiva per il Comic-Con. Ma questa è una mia idea, probabilmente magari sbagliatissima. Passiamo anche un attimo a parlare di live action. Infatti, a poche settimane dal suo debutto, Netflix ha deciso di cancellare la serie riguardante Cowboy Bebop. La serie aveva debuttato appunto da pochissime settimane sul colosso streaming, ma ha ricevuto tantissime critiche, ha avuto un'accoglienza veramente fredda da parte del pubblico, di conseguenza non hanno avuto alternative, se non quella di troncarla immediatamente e non rinnovare il contratto per la seconda stagione. L'ultima notizia, in realtà, che avrei voluto darvi è quella che è uscita finalmente l'ultima copertina di Berserk, quella del volume 41, che debutterà in Giappone nel corso di dicembre, esattamente il 24 dicembre. Non vi mostro la copertina, per il semplice fatto che ho fatto un video su TikTok e sono stato accusato di spoiler. Secondo il mio modestissimo parere, mostrare una copertina non è spoiler, anche perché altrimenti una persona dovrebbe entrare in fumetteria con gli occhi bendati, perché altrimenti si spoilerà praticamente tutti i volumi esistenti. In ogni caso, sappiate che è uscita, sappiate che il 24 dicembre sarà presente in tutte le fumetterie giapponesi, di conseguenza, se tutto va bene, a maggio-giugno dell'anno prossimo arriverà anche in Italia. Quindi, mi raccomando, copritevi gli occhi da adesso fino a maggio dell'anno prossimo perché altrimenti vi spoilerate l'ultima copertina di Berserk. Ragazzi, è una battuta che nessuno si offenda, ovviamente, ma adesso lasciamo da parte le news e partiamo con le novità della settimana, con quello che si potrà acquistare nel corso dei prossimi giorni. Ed iniziamo, come sempre, da Star Comics, che vedrà l'uscita del volume 2 di Adu. Il volume 1 era uscito ad ottobre, ne avevo parlato nelle novità del mese, mi era cresciuto veramente tantissimo questo titolo. Continuerà inoltre la new edition di Detective Conan, che giunge al volume 8. Dopodiché, finalmente, abbiamo il ritorno di Vinland Saga, che vediamo qua con il suo numero 25, un volume che attendevo tantissimo. Poi abbiamo Shaman King, la final edition, volume 18, Shirai Yuki dei capelli rossi, volume 9, e Yotsuba con il suo volume 14. Per quanto riguarda invece Planet Manga, per quanto riguarda le ristampe, attualmente sul sito non c'è nulla. Ragazzi, fate conto che per scoprire le ristampe di Planet Manga vorrebbe dire andare a scrivere uno per uno tutti i titoli del catalogo della casa editrice e andare a scoprirne la data esatta di uscita. Un lavoro che richiederebbe forse una settimana. Voi immaginatevi, attacco dei giganti 1 quando esce, attacco dei giganti 2 quando esce per tutti i titoli. Quindi, purtroppo, ultimamente, il sito Planet non ho idea di che cosa stiano facendo, ma hanno fatto sparire tutti i titoli. Per quanto riguarda le novità, questo lavoro lo faccio volentieri per cercare di darvi un'informazione quanto più giusta possibile. Per quanto riguarda le ristampe, viene veramente molto, molto complicato. Quindi, magari, cercherò di fare dei post dedicati su Instagram, su Telegram, tanto sul mio canale Telegram se vi iscrivete. Poi verranno pubblicate tutte le ristampe di tutte le case editrici senza problemi. Farò in modo di aggiornarvi appena possibile, appena si saprà un qualcosa di certo su tutto il piano ristampe. Per quanto riguarda le novità, invece, abbiamo il numero 2 di Shai, il numero 5 di Kaijin Reijo, così come il numero 5 anche per Dororo e Yakimaru. Dead Demon, Dead Destruction, di cui abbiamo visto le ristampe dei volumi 1, 2 e 3 la settimana scorsa, proseguirà invece come novità con il suo volume 11, che dovrebbe essere il penultimo della serie. The Killer Inside uscirà col volume 10, ed anche in questo caso si tratta del penultimo numero di questa fantastica serie, thriller, horror, splatter, poliziesca, c'è un po' di tutto all'interno di questo penultimo. Si concluderà invece Sing Yester Day 4 Me con il volume 11, Full Metal Alchemist dovrebbe tornare su Full Metal Alchemist, permettetemi di utilizzare il condizionale per il momento, con il volume 7, e invece sembrerebbe sicuro, l'ho tenuto per ultimo apposta, il debutto, l'arrivo della Ultimate Edition di 20th Century Voice con il primo numero. Planet gli ha dedicato un post fatto appositamente su Instagram, dove diceva ragazzi, non abbiamo più intenzione di slittarla, segnatevi come data il 16 dicembre, perché è la volta buona che potrete trovare il primo numero di 20th Century Voice in questa nuova edizione. Quindi la voglio dare per buona, voglio prendere per buono quello che ci è stato detto nella casa editrice, e dirvi al 100% esce, poi se non esce ci ho messo la faccia, mi sono fidato comunque di Planet, e al massimo è colpa mia, non vi preoccupate. Dopodiché andiamo a recuperare anche le uscite di J-Pop, che le ha cambiate proprio ultimamente, dovevano uscire 5 o 6 titoli, in realtà ne escono soltanto 3, che andiamo a vedere insieme, sono la novel di Sword Art Online, con il suo sedicesimo volume, poi abbiamo il primo numero di Bannigor Senpai, per chi non ha acquistato il confanetto, e concludiamo con l'ultimo titolo, ovvero Remnant Omegaverse, il volume numero 5. Mentre l'ultima casa editrice, di cui andare a scoprire le nuove uscite, è Goen, che questa settimana si dà alla pazza gioia, perché farà uscire Lockdown School, il numero 5, avremo il debutto di Bastardo, un webtoon coreano, attesissimo anche da molti di voi, perché in tanti mi avete chiesto se si sapeva una data di vita, Colled Game volume 2, Forza Genki numero 22, Elk sempre col volume 2, Karakuri Circus numero 38, debutterà inoltre La Corte dei Demoni, sempre col primo numero, Casa Giro a Ferratatami, che ricordo che è composto dalla stessa coppia di autori di No Wolf and Cub, Alice Music Academy, sempre primo volume, mentre poi continueranno Nabatiknaus volume 4, Omega Tribe 10, Spreason Experiment 3, School Live volume 2, Sentiero dei Fiori volume 12, Una Stanza di Felicità 2, UQ Holder 21, Momogumi Plus Senki volume 12, e mi sono perso il debutto anche di Mononokin, l'imbronciato, sempre con il suo primo volume. E questi ragazzi erano tutti i titoli in uscita nel corso di questa settimana. Come sempre, spero che il video vi sia stato utile, spero che abbiate preso carta e penna per segnarvi le cose che vi interessano maggiormente. Io vi ringrazio di cuore per la visione e chiedendovi semplicemente di lasciare un bel like e iscrivervi al canale, vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti e una buona serata!